Il gabbiano Jonathan Livingstone parte quarta. Una sera i gabbiani che non erano impegnati in prove di volo notturno se ne stavano insieme sulla spiaggia ciascuno immerso nei propri pensieri. Jonathan fattosi coraggio si avvicinò al gabbiano anziano. Si diceva che costui fosse prossimo ormai a trasmigrare in un mondo più evoluto. Chang lo chiamò con un po' di titubanza. Il vecchio lo guardò affabilmente. Che c'è figliuolo? La tarda età anziché indebolirlo gli aveva conferito maggior vigore. Volava meglio di qualsiasi altro ed era già padrone di esercizi di cui gli altri dello stormo conoscevano appena i rudimenti. Chang questo mondo non è il paradiso dico bene? L'anziano ebbe un sorriso nel chiarore della luna. Non si finisce mai di imparare Jonathan disse. Ma allora dopo qui cosa ci aspetta? Dove andremo? E un posto come il paradiso c'è o non c'è? No Jonathan un posto come quello no non c'è. Il paradiso non è mica un luogo non si trova nello spazio e neanche nel tempo. Il paradiso è essere perfetti. Tacco un minuto e poi tu sei uno che vola velocissimo. Non è così? Mi piace andare forte disse Jonathan preso alla sprovvista ma fiero che l'anziano se ne fosse accorto. Raggiungerai il paradiso allora quando avrai raggiunto la velocità perfetta. Il che non significa mille miglia all'ora né un milione di miglia e neanche vuol dire volare alla velocità della luce perché qualsiasi numero vedi è un limite mentre la perfezione non ha limiti. Velocità perfetta figlio mio vuol dire solo esserci essere là. Senza alcun preavviso Chang scomparve per riapparire in un batter d'occhio una ventina di metri da lì sulla riva del mare. Poi di nuovo sparì e si trovò nella stessa frazione di secondo accanto a Jonathan. Pare un giochetto disse. Jonathan era sbalordito. Dimenticò di fare altre domande sul paradiso e chiese invece ma come ci riesci? Che effetto fa? E fin dove riesci ad arrivare? Puoi arrivare da qualsiasi parte nello spazio e nel tempo dovunque tu desideri disse l'anziano io mi sono recato in ogni luogo possibile immaginabile in ogni dove in ogni quando. Lanciò uno sguardo al mare all'orizzonte. E buffo quei gabbiani che non hanno una meta ideale e che viaggiano solo per viaggiare non arrivano da nessuna parte e vanno piano. Quelli invece che aspirano alla perfezione anche senza intraprendere alcun viaggio arrivano dovunque e in un baleno. Ricordati Jonathan il paradiso non si trova né nello spazio né nel tempo poiché lo spazio e il tempo sono privi di senso e di valore. Il paradiso è... Mi potresti insegnare a volare in quel modo? Jonathan fremeva tutto all'idea di una nuova vittoria sull'ignoto. Si intende se desideri imparare. Lo desidero sì quando si comincia? Anche adesso se ti va. Voglio imparare a volare in quel modo disse Jonathan e una strana luce brillava nei suoi occhi. Dimmi che cosa devo fare. Chang parlò con lentezza fissando attentamente il suo giovane interlocutore. Per volare alla velocità del pensiero verso qualsivoglia luogo disse tu devi innanzitutto persuaderti che ci sei già arrivato. Il segreto secondo Chang stava tutto qui. Jonathan doveva smettere di considerare se stesso se stesso prigioniero di un corpo limitato un corpo avente un'apertura alare di 110 centimetri i cui itinerari potevano venire tracciati su una carta nautica. Il segreto consisteva nel sapere che la sua vera natura viveva perfetta come un numero non scritto contemporaneamente dappertutto nello spazio e nel tempo. Jonathan si applicò furiosamente giorno dopo giorno da prima dell'alba dopo la mezzanotte ma per quanti mai sforzi facesse non riusciva a spostarsi di un'unghia. Lascia perdere la fede ripeteva sempre Chang non ti è mica servita la fede per volare. Ti è bastato l'intelletto capire la faccenda e qui è la stessa cosa. Su riprova. Poi un giorno sulla spiaggia ad occhi chiusi concentrato in se stesso Jonathan afferrò in un baleno quel che Chang voleva dire. Ma è vero io sono un gabbiano perfetto senza limiti e nell'imitazioni. E provò un grande brivido di gioia. Bravo gli disse Chang e il suo tono era di vittoria. Jonathan riaprì gli occhi. Si ritrovava con l'anziano loro due soli da qualche altra parte. Erano su una spiaggia sconosciuta. C'erano alberi fin sulla riva del mare e due astri gemelli splendevano in cielo. Finalmente hai capito il principio disse Chang anche se naturalmente la tua tecnica va alquanto di rozzata. Jonathan era scombussolato. Ma dove siamo? Del tutto indifferente a quello strano paesaggio l'anziano gli rispose in modo vago. Siamo è ovvio su un qualche pianeta con il cielo verde e un duplice astro per sole. Jonathan ruppe in un grido di gioia. Il primo suono che emettesse da quando aveva lasciato la terra funziona. Sicuro che funziona John disse Chang. Funziona sempre quando sai quel che fai. Dunque per quello che riguarda la tua tecnica. Quando furono di ritorno era già buio. Gli altri gabbiani guardavano Jonathan sbigottiti, ammirati. L'avevano pur visto scomparire così su due piedi. Presero a fargli le congratulazioni ma lui tagliò corto. Sono io il novellino qui. Sono alle prime armi. Ho tantissime cose da imparare da voi altro che. Non direi John gli disse Sullivan lì accanto. Tu sei quello che ha meno paura di imparare. Fra tutti i gabbiani che ho visto in diecimila anni. Lo stormo ammuto lì e Jonathan si gingillava pieno di imbarazzo. Bene possiamo cominciare a occuparci del fattore tempo se ti va. Gli disse Chang e ci si lavora su finché non arrivi al punto che sei in grado di volare nel passato e nel futuro. E poi dopo uno è pronto per la parte più difficile più forte ma anche più piacevole di tutte. Uno è pronto per volare verso le alte sfere e arrivare a capire il segreto della bontà e dell'amore. Trascorse un mese o qualcosa che sembrò durare un mese durante il quale Jonathan fece progressi sorprendenti. Aveva sempre avuto facilità d'apprendimento ma adesso come discepolo prediletto dell'anziano assimilava le nozioni alla velocità di un computer. Un cervello elettronico piumato. Ma poi arrivò il giorno della scomparsa di Chang. Era all'insieme a loro che parlava con calma a tutti quanti esortandoli a non desistere mai dallo studio, a perseverare nelle esercitazioni, ad approfondire la loro conoscenza di quel perfetto invisibile principio che governa la vita dell'universo. Quando ecco che mentre parla così le sue penne si fanno più splendenti, sempre più, finché al fine nessuno dei gabbiani riesce a sostenerne più la vista. Jonathan disse Chang e queste furono le sue ultime parole. Tu seguita a istruirti sull'amore. Quando gli occhi abbaglianti tornarono a vedere Chang non c'era più. Man mano che i giorni passavano sempre più di frequente capitava a Jonathan di ripensare alla terra ad onde era venuto. Se laggiù lui avesse conosciuto solo una decima, anche solo una centesima parte delle cose che adesso sapeva, quanto più avrebbe avuto allora lì più senso la vita. Chissà, si domandava riposando sul lido, chissà se laggiù adesso ci sarà qualche gabbiano che lotta e che si arrovella per superare i propri limiti, per scoprire come il volo non sia solo qualcosa che serve a procurarsi un tozzo di pansecco sulla scia di una barchetta. Chissà se qualcun altro sarà stato esiliato come me per aver proclamato le sue idee al cospetto dello stormo e più Jonathan ripassava le lezioni di bontà, più meditava sulla natura dell'amore e più cresceva in lui la nostalgia della terra. Poiché nonostante la sua vita solitaria e quello che gli era toccato di condurre, il gabbiano Jonathan era nato per fare l'insegnante e per lui mettere in pratica l'amore voleva dire rendere partecipe della verità da lui appresa, conquistata, qualche altro gabbiano che a quella stessa verità anelasse. Sullivan, anche lui era dedito adesso ai voli alla velocità del pensiero ed aiutava gli altri ad imparare, non era mica tanto convinto però. Tu eri un esule John, ai tuoi tempi eri un reglietto e come puoi illuderti che adesso i gabbiani gli stessi di allora ti ascolterebbero? Tu conosci il proverbio e dice il vero più alto vola il gabbiano e più vede lontano ma quei gabbiani lì dalle tue parti non si levano quasi da terra stanno sempre a schiamazzare e a baruffare fra di loro. Sono lontani le mille miglia dal cielo e tu vorresti farglielo vedere il paradiso da laggiù dove si trovano? John, quelli lì non vedono al di là del proprio becco, resta qui. Qui puoi dare una mano ai novellini che però sono abbastanza evoluti per intenderti. Tacque un attimo e poi aggiunse. E se Chang fosse tornato al vecchio mondo prima della sua venuta qui? Di un po', cosa saresti oggi tu? Questo era un argomento convincente. Sì, Sullivan aveva ragione. Più alto vola il gabbiano più vede lontano.